Tiago Menna, uomo copertina di Teramo Sora, grazie ad una doppietta che sicuramente ricorderà a lungo. Ma procediamo con ordine. A quattro giorni dalla vittoria contro la Vigor Senigallia, il Teramo torna al Bonolis per certificare ancora una volta l'ottimo periodo di forma. In un momento in cui tutte le squadre cercano la loro vera dimensione. L'ostacolo dei Biancorossi è il Sora, che dopo la rocambolesca sconfitta contro l'Isernia vuole tornare a marciare. La novità dei Laziali è in panchina, dove Massimiliano Schettino ha preso il posto dell'esonerato Stefano Campolo. Pomante cambia due pedine rispetto alla gara di mercoledì. Ancora Outma e Sori, mentre Ture si accomoda in panchina, recuperato dopo una brutta botta subita contro i marchigiani. Le uniche variazioni sono rappresentate da Loncini, che torna a presidiare la corsia di destra al posto di San Severino, e da Bawol Spinner, che rimpiazza Ferraioli. Il Sora, seguito dal calore dei suoi tifosi, se la gioca con Fontana a riferimento offensivo. Dirige Simone Gambin di Udine. Nei primi istanti di contesa le due squadre si studiano. Il primo acuto è Biancorosso. Pietrantonio, dalla lunghissima distanza, prova a sorprendere Boscolo, che se la cava. Sui due corner successivi Pavone impegna il numero uno laziale, prima con un tiro crosteso, e poi con una conclusione troppo debole per far male. Il Sora perde metri e il Teramo riesce a sviluppare trame molto interessanti, come al quindicesimo, quando sulla sinistra Brugarello scodella per Pietrantonio, che propone un bel pallone al centro. Pavone incorna senza la giusta forza. I padroni di casa continuano a premere. Tra il diciottesimo e il ventesimo, De Giglio ci prova due volte. Prima con un tiro debole e poi con un'incornata da posizione decisamente più pericolosa, dopo l'ottima pennellata di Baumwalspinner. Subito dopo, Schettino è costretto al primo cambio. Di Prisco non ce la fa al suo posto, Girillo. Al ventiduesimo, il Sora si fa vedere per la prima volta dalle partiti di Giorgio, ma salviato di testa non c'entra il bersaglio. Stessa sorte dall'altra parte per il destro al volo di De Giglio, sull'ennesimo cross preciso di Pietrantonio. Al trentasettesimo è sempre il numero dieci a rendersi pericoloso dopo la cavalcata di Brugarello. Boscolo riesce a disimpegnarsi con l'aiuto dei compagni. Il Teramo non vuole andare all'intervallo sullo 0-0 e nel finale di tempo riesce a trovare il vantaggio. Prima De Giglio cerca il palo lontano senza successo, e poi offre un cioccolatino messo in fondo al sacco da Tiago Menda, che festeggia il suo primo centro stagionale. Teramo 1-0, il risultato con il quale si va a riposo. Con le immagini di mano e il centurame passiamo alla ripresa. Il Teramo cerca di chiudere il match, ma con l'attenzione giusta per non scoprirsi. All'undicesimo Bumwall Spinner dal vertice dell'area di rigore lascia partire un fendente diretto all'incrocio, ma Boscolo con un colpo di Reni salva i suoi. Al ventitresimo ecco il raddoppio bianco-rosso. La punizione di De Giglio sembra diretta in rete, ma Menda arriva ancora di testa a deviare alle spalle di Boscolo, siglando una clamorosa doppietta. A dieci minuti dal termine il Teramo cala anche il Tris. Micidiale il controvede condotto da Galesio e trasformato da Touret a 2x2 con Boscolo. 3-0 il risultato in cassaforte. Nell'ultimo giro di lancette, prima del recupero, salviato nega la gioia al neo entrato Capitanio, bravo a combinare con Touret. Il numero 5 però capisce tutto e interviene al ridosso della linea di porta, evitando i suoi un passivo più pesante. Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio di Gambin. Con autorità il Teramo si impone sul Sora 3-0, allungando la striscia positiva a otto risultati utili consecutivi. Merito anche di una difesa che sta concedendo solo le briciole agli avversari.